Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Claudio Forte, professore associato verso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino. Partecipo a FameLab come coordinatore responsabile scientifico della selezione locale torinese insieme alla mia amica e collega Silvia de Francia. Quando ho partecipato a FameLab come concorrente nel 2014 non sapevo che sarebbe stato un passo così importante sia per la mia vita personale che per quella professionale. Ho conosciuto persone fantastiche con cui tutt'oggi ho uno splendido rapporto e che adesso sono sparse un po' in giro per il mondo e professionalmente è stato un passo molto importante per imparare a modulare i vari registi comunicativi che noi abbiamo a nostra disposizione e che non sappiamo di avere e di mettersi in gioco raccontando la nostra attività, le nostre passioni ad un pubblico non esperto. Noi vi aspettiamo per diventirci insieme, per aprire insieme nuove strade che forse ancora nemmeno voi conoscete l'11 maggio al Cubotreato dell'Off Topic in via Giorgio con la Vicino 35 a Torino. A presto!